Allora, dovete sapere che Leonardo sta aspettando il dentista che non arriva e si sta un pochino stancando. Da quanto tempo ti stanno facendo aspettare, Leo? Intanto che arriva il dentista, facciamo un'escursione, allora guardate, qui ci sono gli apparecchi del dentista, questo è il suo, lì abbiamo il lavandino, lo si apre. Qua ci sono degli altri apparecchi magici. Qui c'è uno strano cuore, vedi, l'acqua, l'acqua dolente. Queste sono le tavolette che non avrete, come vedete, strato sempre. Stai fiume. Cosa hai fatto? Leonardo. Adesso che arriva il dentista, vede che hai rotto lì. Ci siamo, eh. Buonasera. Grazie a tutti. Ciao. Grazie a tutti.